E' uno degli artisti più noti della scena new yorkese, è un pittore, regista e sceneggiatore statunitesi. Questa puntata è dedicata a Julian Schnabel. E' nato a New York il 26 ottobre 1951, il padre è un immigrato ebreo di origine ciecoslovacca. E' cresciuto nel clima della Young American Art, la nuova scuola di New York, esploso dopo un periodo che definisce buio come giovane pittore in città, che si manteneva cucinando in ristoranti della downtown alla moda per 200 dollari alla settimana e dipingendo fino a tarda notte. Un artista versatile che all'inizio degli anni 90 ha cominciato a sperimentare l'utilizzo di altri media, registrando un album country che ha ricevuto commenti positivi da parte della critica. Laureato in arte all'Università di Houston, Julian ha allestito la sua prima personale nel 1979 alla Mary Boone Gallery di New York. La sua carriera arriva all'apice nei primi anni 80, diventa icona e simbolo della scena artistica americana. E' nella città più luminosa, più caotica e più fashion del mondo. Viene chiamato Bad Boy del mondo dell'arte, causando scalpore con l'aggiunta di elementi insoliti, come piatti rotti, su tele di grandezza monumentale. Vengiunge anche oggetti trovati per caso, usati in disfacimento e carichi di storia come legni e rosi dall'acqua. Ma non solo. A New York c'era la freschissima scena artistica, stringendo una forte amicizia con Andy Warren e suoi giovani amici, tra cui Kate Haring, e soprattutto ha visto nascere e morire la stella di Jean-Michel Basquiat. Gli anni 80 sono un susseguirsi di successi, tanto che le sue opere, dalla scultura alla pittura, sono esposte nei musei e nelle collezioni di tutto il mondo, dal MoMA di New York al Guggenheim di Bilbao, diventando un esponente di spicco nel neoespressionismo. A metà degli anni 90 si avvicina al cinema e, attenzione, nel 96 realizza Basquiat, un film biografico sulla vita del pittore che fu il primo artista nero ad ottenere un riconoscimento internazionale. Bellissima la colonna sonora, un casto importante tra cui spicca la leggenda David Bowie nei panni di Andy Warren e una descrizione del regista che non scade nella geografia e costruisce un ritratto veritiero della New York di quegli anni. Ha tre figli, dalla prima moglie, e altri due dalla seconda. Tra questi c'è Vito, a cui ha trasmesso la passione per l'arte. Non è un artista, ma un mercante. E ha da poco aperto una galleria St. Moritz. Ha uno stile nel vestire molto particolare. Infatti, indossa elegantissimi pigiami, sia singoli che sotto giacche e cappotti, e con ai piedi le immancabili. Vance, alla prossima puntata, con Leroy e Hartburger.